Allora ragazzi, calcio mercato finito e anche la pazienza di molti tifosi della Juventus credo che sia arrivata alla fine Ormai non ci sono dubbi, se c'era un minimo dubbio che fossero incompetenti e che non sanno costruire una squadra che appena è andato via Marotta questi non sanno fare nulla, cioè questi sono proprio gente che col calcio non ha niente a che vedere Dispiace dirlo, la squadra si tiferà sempre, sempre accanto alla Juventus è tutto perché anche se bisogna rendersi conto che questa squadra non può lottare per i primi quattro posti, cioè sarà un miracolo calcistico arrivare nei primi quattro quest'anno Cosa si può dire? Io tutto mi aspettavo tranne che il ritorno di Allegri partorisse una squadra schifosa come questa Squadra senza senso, squadra senza nessuna logica, mercato scriteriato peggio dell'anno scorso E la cessione di Ronaldo io credo che fosse già nei programmi, non mi possono venire a raccontare che Ronaldo se ne è andato all'improvviso il 27 di agosto Gli è venuta la mattana di andare via, sapevano che sarebbe andato via, hanno trovato la situazione tardi Però dovevano avere il piano B, Ronaldo va via, dobbiamo avere chi sostituisce Ronaldo e non può essere Ken E non può essere Ken a quelle cifre Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo pagato Ken 10 milioni in più di quello che l'abbiamo venduto Alla fine la cifra di Ronaldo in totale con i bonus saranno 23 Quindi abbiamo fatto minus valenza Questi non gli darei da gestire, manco la paghetta di mio nipote gli darei da gestire a questi qua Questi sono sempre in perdita, non fanno un affare Sanno fare solo plus valenze Solo plus valenze sanno fare Quindi, prima si scherzava, roba vaglia, la plus valentus Ragazzi, questa è una società che sa fare solo plus valenze Non si preoccupa del campo, non si preoccupa della visione futura della squadra Non si preoccupa di null'altro che delle casse E' anche male Che se tu dici, siamo inattivo Facciamo sempre degli affari, compriamo e rivendiamo Vabbè, questi comprano a molto e vendono a poco E molti non riescono manco a venderli Li dobbiamo regalare Quindi, fatemi capire, questo modello Juventus Che fino a tre anni fa eravamo invidiati da tutti Quale modello è? Bisogna dire, ragazzi, che l'unico buono di quelli lì era Marotta Che non è neanche un drago Ma l'unico buono lì in mezzo era Marotta Gli altri fanno uno più pena dell'altro A livello calcistico Si parla sempre a livello calcistico Tutto rispetto alle persone Ma caro Andrea Agnelli Vuoi il bene della Juventus? Vattene via Dai la squadra in mano a gente che sa gestire Vattene via Faccio un favore Vattene via Te ne devi andare Perché se non hai capito che stai distruggendo la Juventus Qualcuno te le deve ricordare Spero che tutti i tifosi ti fischino dal primo minuto alla fine La dirigenza, non la squadra Perché i ragazzi non hanno colpa Io ti farò sempre di più Juventus Io non ce l'ho con i ragazzi Ce l'ho con chi ha costruito una squadra che non ha nessuna logica E ce l'ho anche con Allegri Perché Allegri non doveva accettare questo mercato Allegri non doveva accettare sta roba qua Perché lui viene da cinque anni di vittorie Di non calcio ma di vittorie Lui voleva cambiare la squadra per fare una squadra proiettata al futuro Cosa proietti al futuro con questa squadra? Cosa? Cosa? Non hai un centravanti da tre anni E non pigliamo i centravanti Non hai un centrocampista che fa gol Da quando è andato via Pogba E non ne pigliamo i centrocampisti che fanno gol Ragazzi non mi voglio dilungare perché poi mi incazzo eh Non mi voglio dilungare Comunque Stagione già compromessa per i primi due risultati schifosi E non prendi neanche il centravanti e il centrocampista? Ma di cosa stiamo parlando? E le altre squadre vanno a pigliare i giocatori in prestito a 5 milioni Saúl a 5 milioni Ragazzi ma stiamo scherzando? Io ragazzi ho perso ogni tipo di aggettivo Sempre forza Juve Sempre comunque forza Juve Però io spero che questo sia l'ultimo anno di Andrea Agnelli alla presidenza della Juventus Io questi qui non ce li voglio più vedere alla Juventus Devono sparire dalla Juventus Grazie a tutti